Poi qualche giorno fa è venuto il mio amico John, il coreano che è stato di fronte a mia marisa Hi Pietro, posso dire qualcosa? Of course, ti posso dire una cosa? Dimmi Hai visto a YouTube la tua paella di seafood Ma mi piace una paella di pelle Possible che ti faccio per me? Ho visto che tu hai fatto la paella e i frutti mare Avevo faune di pollo E io ho detto, of course E io ho detto, come no? E io ho fatto la paella La paella L'inter potrebbe riavere Lukaku Paella fatta Il mio vicino super contento Però la domanda a voi è Vieni con il microfono E vi dice Hai visto questa cosa che ho fatto con YouTube? Vieni? C'ha fatto? Avere un buon vicinato è una cosa più bella che esiste Ciao a giù Ciao a giù